Ciao, benvenuti sul canale Madame Nia. Non vedevo l'ora di fare questo video per condividere con voi una bellissima notizia. Dunque, qualche settimana fa Blistex Italia dava la possibilità a noi blogger di candidarci per poter provare uno dei loro due kit. Kit Protection e Kit Fun. E loro tra tutte le richieste sceglievano solo alcune. Io ho espresso il desiderio di provare il kit Fun perché sono stata catturata dalle confezioni esterne del loro burro cacao. Colori molto frizzanti, molto vivaci, molto estivi. Quindi ho optato per il kit Fun. Ho sbirciato un po' sul loro profilo, ho letto di cosa si trattava e il risultato è stato prodotti che effettivamente mi attiravano tantissimo. E così ho ricevuto la notizia da parte di Blistex che avevano scelto me insieme ad altre ragazze. E quindi oggi sono qui a parlarvi del kit Fun che ho ricevuto da Blistex Italia nel giro di tre giorni. Ho fatto un video unboxing breve che ho condiviso sulla mia pagina Facebook, Madame Nia e su Instagram. Ma oggi vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e più un'altra cosa che ho inserito nel pacco. Allora vi dico che il pacco è arrivato all'interno di due buste, quindi stava questa, stava quest'altra e poi questo qui. All'interno ho trovato anche questa cartellina che si apre, quindi c'è il foglio e qui puoi inserire altri fogli. Una cartellina molto utile, all'interno ci sono tutte le informazioni del kit che ho ricevuto, i vari link e anche l'applicazione di cui vi lascio il link nell'info box. Ora arriviamo al sodo, vediamo precisamente nel dettaglio di cosa si tratta. Allora io mi avvicino qui a voi per farvi vedere. Allora, innanzitutto mi hanno inviato quindi i prodotti all'interno di questa carta e sono nel dettaglio tre. Sono questi qua, al mango, fragola, limone e lamponi. Allora, hanno degli odori veramente buonissimi, molto freschi. La fragola proprio sta di fragola, il mango sta di mango, poi c'è questo qui. Io volevo provare adesso uno di questi che devo aprire. Qui c'è scritto, ci sono tutti i loro ingredienti e anche la protezione 15. Quindi adesso apro uno, apro uno di questi tre, lo provo e vi dico cosa ne penso del profumo. E poi vi dirò anche successivamente della loro durata. I prodotti sono tre, limone e lamponi. Poi c'è il mango e poi c'è la fragola. Io ho scelto di provare il mango che si presenta in questa confezione arancione con le labbra gialle. Allora, il bro cacao è molto profumato, si stende facilmente, non è estremamente denso e lascia un leggero film trasparente, protettivo. Sono tutti bianchi internamente, anche questo qui ha lampone e limone. Spero che durino, questo qui ha un odore buonissimo, sembra Coca Cola. Comunque ringrazio ancora una volta Blistex per avermi dato la possibilità di provare questi loro prodotti. Ci sarà prossimamente una recensione. Continuate a seguirmi, tutti i link utili li trovate nell'info box.